Ed antipasto play-off questa sera al Palà del Mauro perché la sede di Casta Scandone-Avelino chiuderà la regular season affrontando la Dolomiti Energia Trento, squadra che poi tra l'altro i Biancoverdi affronteranno nei play-off. Stefano Sacripanti ha giustamente parlato di un play-off su sei gare anziché cinque e l'appuntamento di questa sera è fondamentale soprattutto per decidere chi delle due squadre arriverà al quarto posto. I Biancoverdi possono sfruttare l'occasione di giocare al Palà del Mauro ma anche di mantenere quella differenza di 11 punti perché all'andata i Biancoverdi superarono a Trento la formazione di coach Buscaglia. Non giocherà il nuovo acquisto Patrick Cauda il quale non è stato tesserato in tempo sarà pronto però per i play-off. Per ciò che riguarda invece Alex Renfro di cui si è parlato nell'escursione Avellino si è portato avanti facendo una richiesta di visso per l'atleta che ieri ha giocato segnando peraltro 28 punti con il Galatasaray. La squadra turca non giocherà i play-off, si è salvata, bisognerà capire a questo punto se la formazione di Istanbul vorrà rilasciare il giocatore oppure no. In base a questo dipenderanno anche poi i movimenti di Avellino che spera però l'operazione è abbastanza difficile tant'è che si stanno valutando anche altre ipotesi. Il termine ultimo per attestare l'ultimo giocatore è venerdì entro le 11.